come sapete il signor Salvini ha iniziato una grande campagna per chiudere i negozi contro i negozi che vendono la cannabis legale ragazzi una cosa pazzesca secondo me secondo me ha ripreso ha ripreso ha sentito il signor Adinolfi vero Mario ti ha un po' copiato Marione no? ha copiato il popolo e la famiglia che da anni propone la chiudura dei negozi da quando ci stanno questi negozi ma scomma ti pare normale adesso abbiamo combattuto tante volte su questa cosa qua ma ti pare normale si vede che qualcuno ci ha dato ragione finalmente il popolo e la famiglia aveva ragione votate il popolo e la famiglia e non lega vabbè a questo punto votate direttamente Adinolfi votate Adinolfi votate Adinolfi mamma mia mamma mia mamma mia